Rieccoci amici di paolozerbi.com con l'ultimo terzo tempo che vi può raccontare la regular season di promozione sì perché gli ultimi 90 minuti sono andati in scena e di fatto si è chiuso il sipari su quasi tutto il campionato non ci saranno infatti i play out e come noto ormai da tempo si faranno soltanto i play off con protagoniste il Morazzone e il Cantù che hanno guadagnato un turno di riposo si contreranno non questa settimana ma la prossima Fatale alla Cassano la giornata forse più nera nella lunga carriera del capitano ed ora allenatore del Villa Cassano appunto Altyn Shalassi perché dopo il gol della lenta tese di Canavesi nel primo tempo il capitano ha due volte dal dischetto la possibilità di impattare e sbaglia o meglio Cicca la prima volta non sbaglia la seconda volta al 47esimo della ripresa ha tra l'altro l'occasione un minuto dopo per fare il gol del 2 a 1 ma a porta spalancata non riesce a trovare il gol che sarebbe valsa la postseason e quindi i play out in caso di vittoria chi avrebbe incrociato il Villa Cassano? Il Valleolona, sì perché il Valleolona cade in casa sotto i colpi di Caccia e di Berton e quindi la squadra di Luciano Cau al novantesimo era salva e tranquilla avrebbe inguaiato la squadra di Massimo Rovellini ma il Villa Cassano non ha fatto il suo non ha fatto il suo anche perché il gallarate calcio cade in maniera fragorosa sono 4 i gol di Maugeri che si porta quindi a casa pallone e vittoria salvezza e titolo di capocannoniere nel postpartita abbiamo quindi analizzato il momento o meglio la stagione dell'Aurora con un Stefano Gilardengo reduce dalla prima stagione da capo allenatore in una prima squadra dall'altro lato invece l'amarezza e la delusione di un Calizzi che lascia la promozione con il suo gallarate e anche il calcio giocato credo che il bilancio mio e comunque di tutto il gruppo debba essere positivo perché alla fine l'obiettivo principale era quello della salvezza è chiaro che a un certo punto ho pensato anche di fare qualcosa di diverso poi sono state entrate delle difficoltà particolari e questo non è stato possibile il bilancio è di un'esperienza importante, è un obiettivo centrato quindi sono contento anche se un po' rammarico del fatto che forse con qualche fortuna o meno con la disponibilità diversa avremmo potuto fare qualcosa di più però Geri solo merita, solo merita perché ha fatto partite su 30 anche quando ha avuto problemi fisici fatti in campo è evitabile dire che è stato il nostro termine offensivo senza di lui non avremmo mai raggiunto questo risultato l'inità male, purtroppo c'era manco di alcune partite che potevamo vincere ma è andata così, il calcio è così e giustamente siamo vincisi troppi infortuni un po' di infortuni, un po' il covid, un po' noi che abbiamo perso partite che non dovevamo perdere però il verdetto è questo rieccoci, quindi il Gallarate, tra l'altro saluta la promozione pensate un po' con un ultimo posto va a far compagnia alla già retrocessa Olimpia che ha battuto in una gara che però non valeva a livello diciamo di classifica se non proprio per superare il Gallarate, la Besnatese e il Villacassano che appunto si accontenta di un pari con la Lentatese che lo costringe ad andare in prima categoria ma ora dobbiamo analizzare il momento di chi la prima categoria la vuole lasciare e ovviamente dopo una domenica decisamente così tumultuosa con tra l'altro poi l'addio dell'allenatore Fabio Pasetti rinasce l'ISPRA, lo fa alla grande rifilando una cinquina all'Arsaghese che era sicuramente una squadra in forma tutte le immagini e direi tutti i gol sono sul nostro portale YouTube e tra l'altro questi tre punti sono preziosissimi perché grazie agli inciampi di Val Ceresio e Bosto gli uomini ora allenati dal patron Binda sono a un punto da ottenere in quel di Luino per avere la certezza dell'accesso in promozione perché siamo arrivati a questi ultimi 90 minuti con questo verdetto perché cade in maniera abbastanza sorpresa perché basta un gol al 14esimo di Di Giorgio per la Falopiese che passa in quel della Val Ceresio Val Ceresio che si fa quindi agganciare da un Bosto che però fa solo 1-1 regalando il settimo punto alla retrocessa ormai da tempo ieraghese capitolo play-out occhio alla domenica perché se la Falopiese dovesse vincere e il Cantello cade in quel contro il Bosto non ci sarebbero nemmeno qui i play-out retrocessione diretta da parte dei Varesini dobbiamo tenere gli occhi aperti anche su chi sta lottando per conquistare i play-off attualmente bisogna fare qualche calcolo lo abbiamo fatto qualora si continuasse con questa realtà che vede Pro Azzurra Mozzate Ferno e Arassagese tutte e tre appagliate a pagare Dazio nella classifica avulsa sarebbe proprio la squadra di Contaldo serve quindi per loro battere la Ieraghese e si spera almeno in un assist del San Michele matematicamente non tagliato fuori proprio dalla lotta per i play-off e avversario del Mozzate con questo è tutto io vi ringrazio per l'attenzione che avete avuto con noi in questa stagione di promozione vi rimando a settimana prossima quando parleremo sicuramente dei verdetti decisamente importanti in quel di prima categoria a presto grazie a tutti Grazie.